Ciao ragazzi, tutti in questo nuovo video. Allora, parliamo della Juventus, perché io mi sono stufato di leggere commenti dove la Juventus è stata derubata nella partita contro il Cagliari. Ci sono stati sì errori, decisioni arbitrali discutibili, però basta, io non voglio fare come altre squadre o come fanno soprattutto gli interisti. Ragazzi, prima di partire vi invito a mettere un like a questo video, iscrivetevi al canale, condivete il video su tutti i vostri social e attivate la campanella per le notifiche. Allora ragazzi, che dire, ieri la Juventus, questa partita, la doveva vincere. Partiamo da questo presupposto. La partita ieri doveva essere vinta perché tolto con il Como, la Juventus in casa non sa più vincere. non sa più vincere. Abbiamo fatto quattro pareggi in sette partite. Quattro pareggi e tre vittorie. Siamo partiti con due vittorie che erano molto ben auguranti, ovviamente con squadre di un altro livello, però, di solito si sa che con squadre di media e bassa classifica tutti puoi un po' giocare tranquillamente e poi non vincere le partite perché ci fai molto leggeri, c'è tante partite da si vince e poi invece te la prendi in quel posto. Come è successo ieri con il Cagliari, come è successo con l'Empoli, poi lasciamo perdere Roma e Napoli che ci possono stare, ma tu con Empoli e Cagliari non puoi fare certi errori. Allora, la partita di ieri, diciamo che era partita bene, era partita in modo giusto, rigore che poi anche lì a discutere, il rigore non c'era, ragazzi, se il braccio sta alto, alto, è rigore, è netto, non si può discutere, non si può discutere. Era alto, largo, comunque ragazzi, non era così il braccio, se il braccio è largo, ma è sempre rigore in aria, quindi io mi sono stufato di vedere certi giocatori che vanno a lamentarsi sempre. Io voglio che qui cambi il regolamento, se l'abito dà una decisione, tu ti lamenti, prendi il giallo, tre, quattro lamentano, tre, quattro gialli, perché mi sono stufato di vedere i giocatori, ma anche se fosse della Juventus, che vanno sempre contro decisioni arbitrali anche quando è giusto. Poi io capisco che certe decisioni arbitrali fanno discutere o sono senza senso, però questa cosa qua, vai al VAR, vai a vedere il VAR, vedi che è fallo, è rigore, basta, stai zitto, non è che se discuti, metti l'abito di decidere, no, allora se forse hai ragione tu, non è rigore, stai zitto e basta, prendi il rigore e basta, ok? Prendete il rigore, contro e basta. Togto questo, segna un buon, un bel rigore Dusan Vlaovic e andiamo avanti e facciamo un primo tempo, diciamo rispetto alle altre partite, meglio, perché solito noi partiamo, facciamo un primo tempo così così, a volte studiamo la partita, poi al secondo tempo giochiamo meglio. Abbiamo fatto un buon primo tempo, possesso palla soltanto noi, ok? Soltanto noi possesso palla, tiravamo soltanto noi in porta e non è possibile che il primo tempo finisca 1-0. Il primo tempo finisca 1-0. Poi io devo dire una cosa, mi devi dire, spiegare Notta perché ha cambiato il centrocampo che ha giocato benissimo contro l'Ipsia, ma questo me lo deve spiegare, perché poi siamo tutti qui a dire, è Allegri l'anno scorso e ogni volta fa una formazione diversa, giocatori che sono in forma non li fa giocare, Ildis che stava bene non lo fa giocare, la formazione di centrocampista stava bene, Motta fa la stessa cosa, Motta fa la stessa cosa, perché se li proponeva per me l'attacco dell'Ipsia con McKennie e Fagioli e davanti Vlaovic, Ildis, ovviamente Consensato perché c'era Niko Consensato e Kupemainas, lasciava quella lì la difesa, la parte alta della squadra, era meglio, non so perché poi va sempre a cambiare, cambia, 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 cambia sempre, cambia, cambia sempre, quindi nonostante dire che Motta non fa questo errore qua, che poi faccia gioco meglio di Allegri, ci voleva poco e lo fa questo qua, questo non lo metto in dubbio, però non capisco il motivo perché deve sempre cambiare i giocatori, c'erano i giocatori disponibili, fai giocare loro, fai giocare loro, perché perlomeno ci deve essere un'identità della squadra, deve esserci un'identità, ora Fagioli e McKennie hanno fatto benissimo, non bene, benissimo contro l'Ipsia, lascia loro, lascia, no, bisogna cambiare, ok? Secondo, qua in questa squadra manca juventinità, manca juventinità, e per me è questo il grande problema della squadra della Juventus, che manca juventinità, sapete io il mio pensiero che avevo su Conte e anche su Motta, ok? Sapete i miei pensieri? Se fosse l'unica positività che fosse venuto Conte, ok? Forse l'unica positività è che questa squadra, questa partita qua, la portava a casa ma proprio a mani basse, a occhi chiuse, la portava a casa questa partita qua, la portava a casa tranquillamente, poi sapete che io Conte, se non ce lo voglio più, questo è un altro discorso, questo è un altro discorso, però manca purtroppo, manca juventinità, Diego Motta non è stato mai juventino, John Elkan, il capo, non è juventino, lasciate bene, non è juventino, e trovate i miei giocatori in campo che hanno un'identità juventina, potrebbe essere Locatelli, ma io Locatelli, sapete il mio pensiero, c'era Scesni, Scesni, scelta scellerata di mandare via Scesni, ma io questo ragazzo non lo toglierò mai, non metterò mai la testa, scelta scellerata di mandare via Scesni, che perlomeno lui era, sapeva cosa significava juventinità, lui lo sapeva, perché poi nello spoletoio ci vuole qualcuno, juventino, con le palle, juventinità, che si incula tutti i suoi compagni, io non so se c'è qualcuno che si incula tutti i suoi compagni, non penso che Danilo sia questo qua, anche se Danilo è un po', però Danilo ormai non lo vede molto col DNA bianco-nero, c'era Scesni, dite tutto quello che volete di contro contro Rabiot, dice il fighetta contro Rabiot, però prima non lui sapeva cosa significava per me, poi posso anche sbagliare, abbiamo Chiellini nella dirigenza, è lui che ora deve prendere le redini e andare in campo, incularsi la squadra, perché lui sa cosa significa DNA bianco-nero, lui lo sa, quindi Chiellini deve scendere, nello spogliatoio, non atteggiamenti, e incularsi i suoi giocatori, perché una partita del genere di ieri, ragazzi, fa veramente cagare, un secondo tempo disastroso, con Dusan Glaucio, che si mangia un gol a porta vuota, davanti alla porta, porta vuota, basta che faceva un tocchino piano, la palla andava dritta in porta, guarda cosa, quando aveva fatto un tiro, ringraziando il cielo, Douglas Lewis, il portiere la respinge, tu avevi la palla sui piedi, e poi, qui si va ancora, a vedere il problema che è Douglas Lewis, Douglas Lewis, perché c'è da capire il problema, c'è da capire qual è il problema, ragazzi, io ripeto l'anno scorso, sui piedi ha fatto dieci gol e dieci assist, dieci gol e dieci assist, è stato positivo su venti azioni, venti azioni minimo, ok, qua veramente è il fantasma, sembra di vedere giocare a Arthur, e non ditevi che non è vero, fa le stesse cose che faceva Arthur, tiene la palla, non è la palla incollata ai piedi, e basta, si gira su se stesso, e basta, in due partiti di seguito, procura due rigori, il primo c'è andato bene, che poi la partita l'abbiamo ribaltata, se poi tu procuri un rigore all'ottantacinquesimo, la vedo difficile, che va a partire da parte a casa, quindi lasciamo perdere tutti gli errori arbitrali del cavolo, che poi ci possono stare, possiamo discorrere il giallo dato a Concesao, ma quello lì non è mai rigore quello lì, non è mai rigore quello su Concesao, non è rigore, se ce lo davano, lo prendevamo, stavamo zitti, dovevamo poi segnarlo, ma dare il giallo in quella situazione lì, no, però, non dite che la partita l'abbia rubata, il portiere per l'arbitro, perché lì non era rigore, lì non era rigore, non era rigore, quindi ditemi voi dove l'arbitro abbia sbagliato, ok, perché forse c'era un fallo anche su Savona, ma nessuno ne ha detto niente, poi si è visto nel replay, ok, però i due rigori, sia quello a favore della Juve, e quello a favore del Cagliari, c'erano entrambi i rigori, il problema è stato nostro, il problema è stato nostro, che si è andato in campo, dicendo, tanto giochiamo con il Cagliari, con l'Ellipse abbiamo vinto, pensate che non vinciamo con il Cagliari, no, se non c'è mai con la testa in campo, la partita non le vinci mai, la partita non le vinci mai, quindi il problema è questo qua, che per me manca DNA bianco-nero a questa squadra, in momenti difficili, perché poi, ieri a partita eravamo incanalata, avevamo meno vantaggio, solo con un vantaggio, le altre squadre, le avversarie si aprono, e noi andiamo avanti e segniamo, ieri no, ieri è successo l'opposto, segniamo, siamo un primo tempo discreto, poi siamo un po' più calati, persi, poi quell'altro va a fare anche un rigore, alla fine della partita, ci si mette tutto, quindi Douglas Swiss per me deve fare un mese, due mesi, un anno, non lo so, di recupero mentale, recupero mentale, vedere cosa c'è che non va, ragazzi, 50 milioni mi hanno pagato, 50 milioni, eh, ragazzi, se siete dati fino a qua, fatemi servire qui sotto, di cosa ne pensate, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, fino alla fine, forse ci vediamo, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi, ciao 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 ciao, ciao 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 ciao